Buona visione I cittadini di Pisa hanno intrapreso una protetta Hai agito bene, anzio? Che succede? Guardate Silenzio! Esevio silenzio! Perché siete qui? Perché mi disturbate? Dovreste essere a purificare le vostre case A purificare voi stessi! Ci sono ordini da alimentare Preghiere da recitare Penidenza da coppire Farete come vi ordinerò Obedirete No! Trova bene, anzio! Non può essere lontana Prendetelo! Eccolo! Presto, prendiamolo! Non siete che una comune canaglia Vergogna! Presto, lo sto perdendo! No! Grazie a tutti.